ben ritrovati una buona serata un buon venerdì sera dopo una breve pausa torna Cisli informa nuovamente alle ventitrenta puntuale in vostra compagnia nello studio principale di espansione tv che in collaborazione dei Cisle con di Cisle dei Laghi ogni venerdì sera vuole fare approfondimento anche questa sera come sempre le linee telefoniche sono a vostra disposizione basta comporre lo 031 3 3 0 0 6 5 5 per intervenire ovviamente sull'argomento della puntata che questa sera è proprio strettamente dedicato alla Cisle dei Laghi alle attività e ai programmi quindi ne parliamo con un ospite eh gradito al quale do il benvenuto e il ben ritrovato il ben tornato perché ormai Gerardo Larghi segretario generale di Cisle dei Laghi è insomma un ospite d'abitudine qui nel nostro studio questo ci fa molto piacere anche a me allora Gerardo abbiamo detto parliamo questa sera di eh Cisle dei Laghi in maniera un pochino più approfondita visto che gli argomenti che vi riguardano sono sempre tantissimi quindi partiamo proprio dall'origine da questa unione eh Como e Varese che si uniscono creando questa realtà eh quindi innanzitutto perché questa idea quando nasce quindi un po' la storia? Beh eh nasce qualche anno fa perché a livello nazionale si decise di dare una svolta organizzativa all'intera associazione eh nasce perché c'era un bisogno allora e c'è ancora di più adesso eh di eh costruire qualcosa di nuovo di diverso nasce perché dentro la Cisla ad un certo punto dopo 60 anni di vita c'era bisogno eh come dire di aprire le porte di aprire le finestre di di fare entrare aria nuova in stanze magari un po' un po' ammuffite un po' pesantite. Quindi una necessità anche di cambiamento? Di rinnovamento? Assolutamente cambiamento, rinnovamento e pulizia. Perché pulizia? Questa cosa l'hai sottolineata in particolare c'era comunque la necessità anche di svecchiare un po' alcune abitudini? Svecchiare abitudini che potevano creare e che hanno creato come eh le cronache di questi giorni dicono e che hanno creato situazioni francamente imbarazzanti per per i nostri iscritti e i nostri associati. Eh è evidente che la scelta che facciamo allora di eh come dire investire eh sulla pulizia e sul rinnovamento è una scelta senza ritorno che implica delle fatiche eh che implica quindi grandi discussioni che implica però una eh una scelta che sta all'origine di tutto e che è la scelta di fare della Cisla una casa trasparente, una casa di vetro. Quindi Gerardo cambiamenti, fatica per applicarli, ce l'hai fatto capire nelle tue parole, però il risultato è stato positivo. Quali sono le caratteristiche principali di questo cambiamento? Allora intanto parliamo di un cambiamento che è in atto, non di un cambiamento che è finito perché il cambiamento è per sua natura costante e continuo. Eh le caratteristiche principali sono quelle di portare chiarezza nei conti, chiarezza nei numeri, chiarezza nei bilanci, di portare un'applicazione dei regolamenti che sia rispettosa non solo della forma ma anche della sostanza, non solo della lettera ma anche dello spirito eh con cui sono stati iscritti, di portare quindi più servizi in prima linea eh di avere meno burocrati e io potrei essere uno di questi in un certo senso eh meno burocrati e più operatori in prima linea eh il che significa avere equilibri di bilancio, equilibri eh di presenza sul territorio, più assemblee, più operatori, più giovani, meno vecchi, meno pensionati e riciclati, più giovani presi dal mondo del lavoro e dalla scuola. Quindi maggiore dinamismo, Gerardo parliamo a tal proposito subito di numeri perché molte sono le sedi, molti sono i servizi e altrettanto numerosi gli utenti che voi eh cercate di soddisfare nelle varie necessità. Assolutamente noi ogni anno soddisfiamo centinaia di migliaia di utenti eh sono centinaia di migliaia di persone che vengono con in numeri bisogni eh abbiamo trentasei eh sedi eh tra sedi principali, secondarie eh abbiamo eh un circa centocinquanta operatori eh più gli stagionali eh è una realtà è un'associazione assolutamente complessa eh abbiamo circa centoventicinque mila eh iscritti e associati eh la gran parte sono eh lavoratori attivi e non pensionati e questo tanto per dire e per sfatare il mito del sindacato come eh il nido delle acque dei pensionati no. Quindi non è eh solo questo l'aspetto prevalente della vostra attività anzi tutt'altro. Assolutamente. La nostra attività è un'attività nelle aziende ma è anche un'attività eh assolutamente nelle sedi. Se noi alle persone che vengono nelle nostre sedi aggiungiamo quelle che incontriamo nelle aziende ci rendiamo conto che si tratta di una di una macchina complessa, complicata. Ecco allora Gerardo entriamo anche nel dettaglio eh una una quantità di sedi, di addetti ai lavori, di utenti che vengono assistiti, quali sono le eh attività, i servizi, chiamiamoli tradizionali, al di là del fatto che hai parlato di innovazione, di cambiamento, di aggiornamento, quelli che tradizionalmente comunque riguardano la vostra attività. Beh eh chiaramente parliamo di CAF, quindi servizi fiscali, parliamo di INAS, quindi tutte le pratiche relative diciamo all'assistenza sociale eh intesa in senso lato quindi dalle pensioni all'invalidità eh alle ricostruzioni a eh tutto un mondo che peraltro i vostri ascoltatori eh telespettatori ben conoscono. Eh parliamo poi di servizi agli stranieri, parliamo di eh servizi a difesa del consumatore, a difesa degli utenti, diciamo degli affittuari, parliamo di ufficio legale ehm per dire. Di questi servizi chiamiamoli tradizionali eh nell'evoluzione storica, nella realtà anche economica del momento, purtroppo lo dobbiamo ancora ricordare, la crisi è alle spalle forse ma sicuramente non è ancora particolarmente un ricordo lontano. Eh qual è il servizio che prevalentemente comunque continua ad essere il più richiesto, il più importante o se ci sono delle situazioni nuove legate a questi momenti particolari che invece richiedono costantemente il vostro intervento? Allora ehm è chiaro che in termini numerici il CAF e l'INAS cioè il patronato e eh il fiscale sono i due pilastri su cui si fonda ancora il servizio però ci stiamo rendendo conto che eh sta nascendo anzi si sta sviluppando fortemente l'ufficio eh legale soprattutto perché dal mese di marzo le dimissioni si possono dare e si debbono dare anche in sede sindacale quindi sempre più lavoratori vengono da noi eh non soltanto ma ehm si sta sviluppando anche un servizio eh che è il servizio che noi chiamiamo di segretariato sociale che è talmente innovativo che per la prima volta è stato sperimentato qui sui laghi come CISL eh e che è stato assunto a livello nazionale dalla CISL eh eh ce lo spieghi nel dettaglio di cosa si tratta? Si tratta semplicemente io lo dico così eh di accompagnare le persone nel loro bisogno eh tutto è nato perché ci siamo resi conto che nel piano della crisi la gente veniva da noi a cercare lavoro o meglio a fare domande di disoccupazione e a cercare lavoro due bisogni a cui noi potevamo dare una risposta o burocratica ti facciamo la pratica oppure potevamo accompagnare le persone in questa loro ricerca non perché noi abbiamo avessimo o abbiamo eh quantità di lavoro da dare ma perché se non altro potevamo aiutare le persone nello stendere un curriculum nel cominciare a orientarsi. Quanto è stato importante io immagino mi permetto di aprire una parentesi in questo senso anche dal punto di vista eh emotivo personale eh di questi lavoratori rimasti magari anche in un'età non più giovanissima senza lavoro eh il supporto vostro quanto è stato e continua ad essere importante? Io credo che no non io credo eh i riscontri che noi abbiamo ci dicono che è decisivo eh davanti alla crisi davanti alla perdita di lavoro la cosa più drammatica non è paradossalmente la perdita ma l'essere da solo davanti all'ignoto che 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 era perché rappresentato da adesso cosa faccio? Dove vado a cercare un altro lavoro? Ecco. Quindi un disorientamento che in qualche modo voi cercate e eh credo eh riuscite anche a con un certo orgoglio sì non non per tutti eh devo dire purtroppo non per tutti eh perché come dire non perché è difficile perché eh però eh il servizio per come sta nascendo e come si sta sviluppando è esattamente il servizio del futuro il sindacato che smette di fare commercialista con tutto rispetto per i commercialisti e i consulenti del lavoro eh smette diciamo lo fa in modo diverso e che però comincia a implicarsi sul mercato del lavoro eh il sindacato che diventa cioè uno strumento di sviluppo del futuro eh per chi come dire starà nel mercato del lavoro del domani che sarà fatto non di un posto fisso per tanti anni ma di tanti posti più o meno fissi che continuamente cambiano e allora la scommessa è io sindacato sto a fianco tuo non solo quando sei al posto di lavoro cioè per dirla con un'immagine che fa arrabbiare i banchieri ma che funziona io non ti do i soldi quando sei ricco e te banchieri qui davvero sono arrabbiatissimi davanti a questa tua considerazione ma la stessa cosa poi per il sindacato io non ti chiedo la tessere ti tutelo quando è il posto di lavoro e basta io devo darti qualcosa in più anche quando non ce l'hai quindi Gerardo in questo senso anche le vostre competenze come figure di assistenza di supporto si sono dovute adeguare avete dovuto in qualche modo cambiare la vostra prospettiva di osservazione e di ricerca sul mercato quando parlavo prima delle difficoltà legate al cambiamento e all'innovazione mi riferivo anche a questo quanto è stato difficile adeguarsi e soprattutto immagino anche trovare delle nuove strategie è stato molto difficile molto difficile perché perché il cambiamento non appartiene per forza alla natura di un di tutti di tutti quindi insomma il cambiamento ci vuole però è sempre difficile fare sempre un'idea molto precisa che gli altri debbano cambiare e invece effettivamente siamo noi sin da dentro e a proposito di cambiamento voglio invece aprire una parentesi perché me ne dai l'occasione sulla giornata di domani perché e qui tocchiamo un altro argomento che fa purtroppo arrabbiare questa volta i lavoratori i pensionati e l'abbiamo visto anche in puntate che abbiamo dedicato dall'ascolto e dalle telefonate un cambiamento importante quello inserito dalla fornero che però non possiamo certamente timbrare archiviare come un cambiamento ben accetto e probabilmente anche per nulla funzionale quindi c'è la necessità di intervenire ancora una volta e domani vi occuperete di questo sì intanto cominciamo da una considerazione la riforma fornero è stata una riforma pensata a tavolino universitario senza in realtà un vero come dire una vera un vero impatto sulla realtà è una conoscenza approfondita della realtà la regia intanto ci manda questo promemoria insomma della giornata di domani di quello che farete la ringraziamo la riforma fornero diceva è stata una riforma prettamente tipicamente teorica non a caso ha creato una quantità enorme di di problemi e se avesse funzionato in termini di risultati probabilmente come dire avremmo accettato anche qualcosa che non ci fa piacere il sindacato è anche questo saper accettare una realtà che cambia se è per il bene di tutti il problema è che non è stato né per il bene di tutti né per un bene dello stato ecco però gerardo davanti a un cambiamento teorico l'hai sottolineato perché credo questo sia davvero il tassello più dolente di questa riforma ora invece bisogna in pratica applicare o proporre degli aggiustamenti allora io ne dico uno perché così ci capiamo noi non siamo per come dire tutti in pensione dopo 15 anni 6 mesi e un giorno come si faceva una volta 41 anni i diversamenti però sono più che sufficienti in particolare poi bisogna mettere la testa su alcuni tipi di lavori piuttosto che su altri io capisco che mandare in pensione un professore universitario a 70 anni possa essere problematico perché lui vorrebbe lui lei vorrebbe rimanere perché si sente ancora intellettualmente attiva ma non è la stessa cosa che picconare in miniera o come dire spadellare davanti a un alto forno quindi ci sono davvero delle diversità pratiche effettive che non possono essere tralasciate io faccio fatica a vedere un muratore a 70 anni su un'impalcatura al 15 di luglio come dire perfettamente sicuro e sicuro il lavoro che lui forse anche un insegnante cinquantenne o poco più che cinquantenne con dei bambini all'asilo piuttosto che all'idea per una distanza di... Io qui non voglio neanche esagerare nel senso che non vuol dire che tutti i lavori sono usuranti non è vero che tutti i lavori sono usuranti alcuni sono più usuranti di altri se noi cominciamo a metterci dentro di tutto io su questo sono credo che non dobbiamo neanche farlo sbaglio di mettere tutto nel calderone né mescolare fare un minestrone ci sono alcuni lavori l'ha detto lei per esempio l'insegnante ad un certo punto un insegnante 65 anni con dei bambini di tre anni non fa l'insegnante fa la bisnonna è anche faticoso in questo caso oltre a essere faticoso allo stesso modo ripeto credo che altri lavori siano invece assolutamente fattibili e poi inevitabilmente bisogna dare spazio ai giovani perché se c'è questa necessità di ricerca di lavoro assolutamente l'altro lato della lato è questo però su questo vanno messi dei come dire paletti ferrei il senato che esce esce l'azienda non può poi farlo rientrare sotto altre forme allora pensato esce entra un giovane assolutamente sì anche se diciamocelo chiaro la risposta alla disoccupazione giovanile in parte verrà data attraverso nuove forme di una nuova come dire riforma pensionistica una riforma pensionistica ma in parte viene data attraverso lo sviluppo attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro sui quali impiantare giovani cioè non si possono mettere cartelli con scritto cercasi giovane e magari apprendista ma con esperienza cioè perché le due cose sono intrinsecamente in contrasto l'una con l'altra evidentemente evidentemente gerardo torniamo all'argomento giusto per chiuderlo in maniera telegrafica e passare ad altro quanto ti aspetti sia difficile partendo dalla giornata di domani riuscire concretamente a cambiare questa riforma fornero io credo che noi lo possiamo cambiare si tratta di vedere come riusciremo a cambiarla io credo che il governo abbia chiaro in testa che questo sia un passaggio decisivo nelle politiche del lavoro e dell'economia che sta facendo gerardo torniamo invece alle polemiche che peraltro in qualche maniera è già accennato poco fa il vostro rinnovamento è anche stato motivato dalla necessità di pulizia di chiarezza anche per quanto riguarda insomma le parti più interne più profonde dell'organizzazione polemiche non molto tempo fa su stipendi di dirigenti qual è il tuo pensiero nei confronti di questo momento complesso anche questo difficile ricco di polemica credo che noi avevamo dei regolamenti erano regolamenti approssimativi e dentro questa approssimazione qualcuno ha giocato e non ha giocato pulito credo però quindi quelle sono state operazioni di cui non so quanto a livello nazionale fossero tutti informati non lo so perché non lo so davvero io credo che dobbiamo prendere atto che la cisl abbia sbagliato a suo tempo ma bisogna prendere atto anche che la cisl ha saputo cambiare in che modo proclamando un nuovo regolamento promulgando un nuovo regolamento che è vincolante promulgando un codice etico che è vincolante in asprendo delle norme intervenendo anche nei confronti di alcuni dirigenti che avevano sbagliato ci sono buste paga comunque pubblicate bilanci pubblicati quindi grande chiarezza più lucidità ora io credo che sia importante che ad ogni livello ognuno faccia chiarezza per se stesso noi per esempio qui sui laghi abbiamo deciso unanimemente come gruppo dirigente di pubblicare al più presto le tabelle anche con i rimborsi chilometrici e non soltanto quelle del nostro salario quindi una trasparenza assoluta assoluta infatti come dire la difficoltà sta in questo nel convincere la gente che è la trasparenza quella che salva il sindacato e quindi salva i diritti dei lavoratori laddove ci fossero laddove emergessero in qualche maniera delle anomalie significative quale avete deciso sarà il vostro atteggiamento la vostra posizione io non sono il giudice sono però chiamato per regolamento e statuto a applicare le norme che esistono in cisla per quanto mi riguarda io davanti a tutti i casi dubbi o più che dubbi che ho avuto sotto il naso io li ho trasmessi perché le autorità interne della cisla compissero il loro dovere e verifico costantemente che lo facciano questa è la cosa importante che io posso fare poi personalmente sono convinto che la pena debba sempre servire a redimere le persone possibilità di una nuova occasione no no sei assolutamente tassativo su questo certo perché se io come dirigente sbaglio e sbaglio non nel senso di sbaglio in politica sbaglio le scelte ma sbaglio perché opero volutamente contro lo spirito e la lettera del regolamento non debba avere una seconda chance come dirigente debba avere una seconda chance come scritto la cisla che ricomincia a lavorare per il bene dei lavoratori ecco gerardo cambiamo argomento andiamo a parlare di te sì allora tu in veste di segretario ovviamente hai un ruolo di riferimento importante solitamente altri altri uomini altre persone che ricoprono cariche analoghe alle tue hanno palesemente un'appartenenza politica nel caso tuo non c'è almeno dichiaratamente quindi cosa ci vuoi dire a tale proposito parlaci di te padre di tre figli professore è felicemente prestato al sindacato per qualche tempo io non ho appartenenze politiche serve avere un'appartenenza politica in un contesto di questo genere secondo te o è una cosa che riguarda un altro discorso allora io vado a votare e votando ogni volta scelgo io credo che questa sia l'appartenenza politica che mi è concessa come segretario della cisla la cisla da 50 anni tutti ha fatto una scelta precisa di autonomia dai partiti autonomia significa che io non posso e non voglio avere cariche incarichi nei partiti o in altre associazioni per diverse ragioni l'autonomia della mia organizzazione è molto più importante perché garantisce la libertà di giudizio che altrimenti come dire non è così evidente non sarebbe così evidente io non ho un'appartenenza partitica ho un'appartenenza politica nel senso di polis della città faccio parte dei cittadini e scelgo il mio sindaco scelgo scelgo il mio voto ma come cisla io sono e debbo essere il feroce sacerdote che garantisce che la cisla parla con tutti nessuno escluso esprimendo sempre le proprie idee sei però un cellino dichiarato quindi in questo caso ti fa piacere dimostrare questo tuo modo di di essere ma io non so cosa significa scusami fare piacere certamente io non raccontarti in questo senso sì io non ho nessun come dire nessun timore da questo punto di vista ma perché parto da un criterio è un movimento ecclesiale cl è un movimento religioso la cisla se proprio vogliamo dirla tutta è nata laica e autonoma ma dentro l'ambito della dottrina sociale della chiesa in cisle ci sono laici ci sono atei ci sono ebrei ci sono musulmani ce ne sono persone di ogni natura e di ogni religione noi accogliamo tutti come ci come cisla io però anche qui faccio un ragionamento io sono il segretario della cisla a me è stato insegnato anche cl che per essere un buon cellino devi essere assolutamente leale al posto in cui sei quindi questo dico porti molto di te della tua formazione personale nel tuo lavoro assolutamente sì ma io sono cisla cioè per essere chiari io qua non posso che essere cisla non posso che ci fosse un giorno per assurdo un contrasto tra cisle e cl io non posso che essere cisla perché questo mi è stato insegnato Gerardo allora ti abbiamo conosciuto abbiamo approfondito le motivazioni della nascita dello sviluppo delle funzionalità di cisle dei laghi a questo punto siamo quasi in chiusura quali sono i progetti più importanti che vorresti vedere non dico conclusi però sicuramente intrapresi almeno al meglio come cisli immagino ovviamente io direi sicuramente si tratta di completare la riforma interna che noi stiamo facendo si tratta di applicare cioè con ancora più decisione le scelte nazionali di trasparenza di pulizia come dicevo prima di applicazione delle norme del regolamento io credo che quello sia il compito a cui nessuno di noi può sottrarsi tranne condannare i nostri figli a non avere un sindacato al loro fianco secondo sicuramente la riforma che noi stiamo facendo dal punto di vista dei servizi quindi dicevo prima la riforma rispetto al mercato del lavoro quindi più accompagnamento dei nostri iscritti nel mercato del lavoro e nella loro formazione terzo sicuramente il welfare aziendale quindi molto più welfare contrattuale e aziendale Gerardo proprio in chiusura ma cerchiamo di dare voce a un ascoltatore abbiamo una telefonata Bruno da Como buonasera Bruno e benvenuto buonasera sono il papà di una ragazza che si è laureata l'anno scorso in matematica e volevo sapere dato che adesso hanno fatto i concorsi per la scuola solo che lei chiaramente si è laureata l'anno scorso non ha fatto il corso dell'abilitazione per arrivare a fare l'abilitazione per poi partecipare al concorso e inserirsi nel mondo della scuola cosa deve fare? Deve venire da voi a fare un percorso formativo o qualcosa del genere? Bruno la ringrazio molto per essere intervenuto una buona serata e se eventualmente fate qualche trasmissione ad hoc su questo argomento cogliamo assolutamente questo suggerimento grazie di nuovo allora io non sono o meglio vengo dalla scuola quindi ho un ricordo abbastanza sfocato ma posso fare due considerazioni la prima certamente ci sarà bisogno di un percorso abilitante per il quale però e questo è il mio secondo suggerimento io consiglierei di lunedì mattina telefonare in sede e di chiedere di Olga Bassi che è la nostra consulente principe esperta terzo io direi al signor Bruno di essere abbastanza fiducioso perché insegnanti di matematica e buoni insegnanti e sono certo che sua figlia è un'ottima insegnante di buoni insegnanti ne abbiamo molto bisogno e ci sono molti posti disponibili bene Gerardo io ti ringrazio come sempre per il tuo intervento per la tua trasparenza soprattutto e per essere stato con noi grazie spero di riaverti presto di nuovo in studio ringrazio tutti voi come sempre numerosi all'ascolto dell'appuntamento di Cislinforma che torna puntuale il prossimo venerdì parleremo di CAF quindi un altro argomento assolutamente importante da approfondire e restate sulla nostra rete grazie grazie a voi